Sto giunto in cage, ti punta un ferro in testa alla dercia Tagli i soldi d'orologio, anche le chiavi del mezzo C'è un amico che è educato, è solo troppo violente Se ti dico che sta in feria, intendo che ha chiuso al fresco Ciao, ciao, oggi ho fatto una barca d'esordi Chiama Dandia Kevara che stasera famo i botti Piamo un sulco, due troie, svuotamo un dampero Stiamo sul grano, non su grau, riprendiamo l'impero Stasla, sto su un jeep con gangsta e due jeep Sta fresca nella tuta, sto comodo, no jeep Chiedi al Rob, chiedi al team, sto di ronda sempre in giro Suoniamo il campanello e ti suona il campanellino Una cricca fa cricratata, mira e spara e pa' bomba Nuova scarpa, nuova colana, baby pilea sto con la Faccio un'esecuzione, uccido ogni tuo parente, lascio solo un genitore Poi ti metto il ferro in testa e gli regalo l'emozione Di vedere da vicino il suo figlio infame che muore Non si rialzano i busti, ti faccio fare lo street Non si street, fai la pizzica, mi basta fare un click Mi squadra per... Sigarette Posso disturbare un attimo? Scusate un secondo Volevo prendere i vestiti che mi devono andare un attimo poi a filmare Ah ok, dame un attimo Mi mangi pure, viene pure lo rigolo Stavano lì dentro? Mi senti? Mi senti? Statico comunque Lui è partita dal cuore Stia cambiando Aspetta, aspetta, arrivo Arrivo subito, vado a tanti Scusate un attimo Allora scusami Ma dentro non lo vedo da qua Io dentro non lo vedo da qua sinceramente Quello nell'angolo laggiù Eh da qua non lo vedo Forse entrando dopo Vabbè dopo Ma adesso sta impegnato Ok vai tranquillo Allora Ok perfetto Madonna Se vuoi prendi Se non hai il veicolo Ti prendi pure un furgone qua fuori Intanto sto finendo l'arriune Per gli ultimi pezzi arrivati No ma tanto fra poco ci sta quell'evento Quindi semmai Ah vai tranquillo Dopo l'evento Un po' piuttati Ma si vai tranquillo Insomma Vai tranquillo Certo certo Devo fare 20 cigarette Per un 20% Ora far un vestito Salvo questo E poi ora far un vestito elegante Per dopo Giusto che sarà Un vestito elegante Devo farlo anch'io Che tali Si sa che ora finisco Che altro Vabbè C'è poco C'è 25 minuti circa Allora mi sa che non arrivo Tutti i prodotti che sono arrivati Però non arriva Farò un cazzo Vabbè Ci sentiamo dopo Allora Ciao caro Ciao caro Adoro Ciao Ecco ho preso il vestito dell'import 644 Vieni qua Si arrivo Dai gladi ma che cazzo fai Pronto Gepp Oh Ciop Oh ti sento Mi senti Si si ti sento Mi ha chiamato Mi ha scritto Afrodite Mi ha fatto una scuola E poi mi ha scritto Di chiamare te Che mi spieghi tutto Si Ma tu stai bene Si Ah perché Sentivo che la voce è strana Ah no Perché stavo mangiando Ah ok No allora Lei mi ha detto che Non so se ti ricordi C'è un certo Corvo che va in giro Con una che non se leva mai la maschera Si si Ok Mi pare che lui Con un amico suo E sono stati Cioè hanno invitato Afrodite A andare con lei Con loro Al golf club E quindi gli ha detto Non ti preoccupare Vai con loro In maniera tale che veniamo un po' A Cosa riusciamo a tirare fuori Anche perché il golf club A quanto pare stasera È un evento tipo cittadino Non è un Certo Non è una cosa Diciamo particolare Quindi automaticamente E È buona come cosa Capito Ma scusami Corvo Si Non ho capito Hanno invitato Afrodite Ad andare con loro Si 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 Hanno invitato Afrodite Ad andare con loro Per fare le cose Sozzi Intendo No non penso Non penso Allora Così per andare Se vuoi mascherarti Meglio Perché io probabilmente Accolto l'ora La tizia alla dentro Mi sta un attimo Facendo girare il cazzo Dico Guarda solo per andare A questo evento Non per fare cose Certo 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 Questo evento qua Poi non penso Capito E poi se bisogna Prendere informazioni Bisogna fare una cosa Del genere Magari non lo so Sarà disposto anche a quello No No cosa sto sentendo Lo bel legale Ah Non lo so Non lo so Però ripeto Essendo una cosa cittadina Di tutti quanti Non quello sicuro Ma mi diceva Forte bracci Che là c'era gente Di spicco Eh me lo immagino Me lo immagino Ho capito Ma secondo te La maschera Bisogna essere pesante Se bisogna metterla Che secondo me No Non è un annuncio Con maschera No 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 Ok la tengo La mia bandana Ma non serve Per andare mascherati Certo Certo Molto scoperto Elegante Mi raccomando Certo Certo L'ho fatto Sono tutto nero Come mai nero? Eh boh Mi da dell'elegante Comunque sia Secondo mia No no Secondo mia Comunque Se io becco Quello razio Io Che sono uno Che gli piace dire Le cose in faccia Sì Ah bravo Voglio Io Non sono stato Ma avevi mandato un'email Ah aspetta Ecco Io non sono Non ho la fedina penale sporca Così mi è stato detto Perfetto Non risulta come fedina penale sporca Sì in caso E nello stesso momento Nello stesso momento Vado faccia a faccia E dico comunque Mi Mi gira il cazzo Di come lei Vanta Tanta E voglia Di far del bene Appena io sono stato Arrestato ingiustamente E mi ha voltato le spalle In maniera bruttissima No 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 signor Jip Se lo lavori di astuzia Capisce Lei Deve essere Intimitato Per chi le ha dato Il criminale Capisce Certo 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 Deve convincere Che Poi Donna Ma comunque Sono orientato Fisualmente L'import Io Sarò Alla festa Con un ragazzo Che si chiama Corvo Vabbè no Io era soltanto Per fargli vedere Comunque io C'ho le palle E mi gira il cazzo Che gente che si vanta Tanta Tanta bravura Se ne sbatte Se ne sbatte Cosa Cosa Però con un certo Corvo Lui girava con una ragazza mascherata Eh lo so Però una persona in quel caso Sì ma io quello che voglio dire Non è che dici c'era uno spaccio Un qualcosa Cioè adesso C'è stata una cosa ingiusta Nel mio confronti Capito E quindi automaticamente Sono passato per un criminale Per una cosa ingiusta E lui ha girato le spalle immediatamente Capito Ma riusciamo a trovare tutti quanti a casa Adesso prima di andare Eh no io sto con questi Però ho capito Ho capito Ho capito Io non so come spiegare Ma volete O se no se vieni qua Viene anche tu Vabbè no Continua così Tu continua così Vai 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 E il fatto è che Quando lo scopriamo Siamo al 644 Cosa? Quando lo scoprirà Rimarrà ferito E che a noi ci ne frega qualcosa? A me è un cazzo Ecco È l'apposto L'importante è che non lo scopri Vediamo quante cose escono fuori da quella bocca No ma più che altro Lui non ha proprio intenzione Cioè non ha proprio rapporti Capisce? Ah no ho capito Ho capito Addirittura ieri Una signorina Non so se io l'ho raccontato Di questa kiss Mi ricordo Il nome C'ho il numero di telefono Purtroppo mi è saltata La registrazione della GoPro Cazzo Ho sempre dietro la GoPro Attivo quando vado A fare incontri Mi è saltata Comunque Niente Sa come fa lui Va in giro Offre lavori Ha visto questa signorina Gli ha detto Delle aspirazioni E' anche molto sfacciato Fronte e mi è girato Mi è dato del criminale Girandomi direttamente le spalle Immediatamente le spalle E vanta tanto bontà E io ero molto contento di questa cosa E mi è girato immediatamente le spalle Per una cavolata che è successo su di me Senza finire la penale sporca Capito? Questo è quello che volevo dirgli Capito? No no Quello se lo faccio Voglio vedere se lui apprezza Che vado là In faccia a lui Gente ricca Io quando mi sono posto con lui Mi sono sempre posto in modo Crudo le prime volte Capisce? Anche perché Non sapevo che cazzo Va bene va bene Va bene era questo qua Per spiegarti questo insomma No no secondo me si Buona propria Vediamo se apprezza le palle Che tiro fuori Capito? Ma Si Come dire Magari lavora lì Import E poi a tempo perso Magari non c'è niente da lavorare Magari veramente Butto a fa tipo l'autista Come era l'altra volta Capito? Mi dà la parca in mancia Beh venga Ancora Amo All'incorreste a me inizio Ci può pure stare Capito? Babbo dai Ti saluto Ciao ciao Buon appetito Scusatemi Era il telefono Entra dentro Ciao 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 A bello Bah si ci sta dai Abbastanza Ci sta ci sta La classe non ne ha Finito il vestito? Ciao bello Io aspetto a quelli Ciao bello Come mai aspetti loro? Siamo bello Poi meno con noi Che faccio? La parcheggio io questa? Vengo con voi direttamente Ma lasciala qua Lasciala qua Ma stiamo Ma stiamo con quella Io c'ho un posto Io c'ho un posto libero Sì sì Vabbè tanto sta per arrivare Nathan Viene Nathan Ah sì sì Nathan sì Nathan Un coglione non ero entrato nel radio Va tranquillo Nathan Vabbè appena c'è vediamo che dice Ah beh Cazzo è vero non l'ho comprato Oggi è vendibile Oggi è vendibile il teddy e le rose Vediamo un po' cosa uscirà fuori Cosa? Eh no perché sono entrato all'import E quindi c'ho questa notizia qua Vediamo un po' in quali locali si possono vendere Ho le rose e i teddy In i rossacchiotti Ah intendi No io mi sono svegliato Sott'acqua praticamente Ah benissimo Non per No no ma proprio per Problemi Di gioco Ah ok ok Quindi avevo perso tutto Ma ero andato a Giusto a riprendere la patente Che stanno a romper cazzo Da mattina alla sera Sti sbirri di merda Sì sì Vero Eh almeno il telefono Eh la devo pure rifà la patente Mannaggia la miseria è vero Come l'hai dovuta rifare tra la nostra parte No la devo rifà Eh me l'hanno presa ma non me l'hanno ridata Eh ma le mortacci loro costa 3000 costa Ristampare il doppio Eh lo so C'è stai radio? Eh no non ce l'ho la radio Ah non ce l'hai? Eh no l'ho più comprato Andiamo la compra adesso Lasciamo l'acqua giù Questa Questa va schifo te macchia Vabbè andiamo nel luogo Vieni vieni Ma scusa ma è la tua? Ma è proprio la tua? Sì sì Ah io dicevo faceva schifo Nel senso che era Pensavo che era di un pensante Capito Pensavo lei Lei si è trovata Oh bello E' pure elettrica Eh no no hai fatto una bella Infatti hai fatto una bella acquista Quella elettrica Andiamo a Mi chiamano Sembra una roba da ricchi Quella di stasera Che cazzo hai Mimiti da popolo Da di scopola Da dopo le mani Com'era stato Ehm Ciro ci ricordi quando siamo andati infatti siamo arrivati da solo lei che buonasera ora noi ci siamo incontrati qua per caso mi chiamo arte arte becene art cip piacere se siete nata posso fare i complimenti a uno stile di capelli fantastico la riguarda il normale si 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 è un nuovo nel completo anche complimenti un ottimo ringrazia come fa di bello lenti da ma ancora niente mi sto diciamo adattando sono nuova in città ammazza il tempo diciamo per ora lavoro presso una ditta diciamo di polizia edili ci sta ci sta è la più in voga a quanto pare ci sono più ditte ci sono più ditte se si ho sentito sentito sono tanti lavori in città infatti la ditta quella edile sta andando alla grande tante costruzioni ci sono anche di lavavetri anche se non va male l'agenzia ancora non mi ha chiamato finora mi ha chiamato su quella di ricostruzioni vabbè insomma con la mano in mano non ci piace stare dai ah no no quello certo senz'altro quello senz'altro voi di che vi occupate se possa eh no anche io sto sotto agenzia ogni tanto vengo chiamato ditta così appunto edile io oppure anche lavavetri anche cerco qualche altro lavoretto qui in città nel senso che faccio la strada sono delle buche ogni tanto si dice ogni tanto lo riempio col cemento molto bene molto bene anche perché un meccanico se la fa pagare cara la gomma nuova infatti stavo vedendo cioè stavo vedendo che i meccanici vanno alla grande conviene conviene andare a lavorare al meccanico praticamente una mezza idea di andare a lavorare al meccanico se ci fosse posto però per avere un input iniziale non sarebbe male insomma dai ma incinta la signora penso di sì credo di sì credo di sì è in dolce attesa in dolce attesa ma come provare questo fantastico raviolo e sa se funziona il golf se ci fanno ce lo fanno provare o è soltanto una rima non lo so vorrei provare io ho provato ad allenarmi al mini golf poi è successo proprio più piccolino sì sì mi sono addormentato lì e poi mi sono svegliato in mezzo è un bello tutto bene dato ci vedremo prossimamente c'era mai così salve signora ha già gradito già gradito se avete ancora bisogno siamo sempre nessun problema è tutto per bar grazie ma è una prova niente ma sappiamo di gente stasera ancora si deve aggregare altre altre persone cina cina lei altrettanto ci vediamo in giro bene bene buon proseguimento ragazzi ciao questo club e spero che a breve possiamo partire anche con il golf voi siete appassionati di golf molto elegante per di cosa preoccupate in città se posso così tanto per conoscerci ho già pensato con il suo collega che cazzo ma sta a pensare a musica ma ringrazio io ma le posso dire una cosa ho incontrato una decina di persone da quando è iniziata la serata non c'è uno che non mi ha detto che era un imprenditore giuro non pensavo che c'erano tutti questi imprenditori oggi qui al golf club ne ho parlato il procuratore ma che chiedemo di niente andiamo lì ma chi lo conosce ma chi lo conosce ma chi lo conosce salve salve sono collega ciao collega ma che dici con lei ce l'hai con me si no no non era lei no però una con i tuoi stessi capelli il tuo stesso vestito e le tue stesse scarpe vabbè una sodia cipo caffettiera ormai la signora per caso non sono benissimo è una valvola che è sviata ogni tanto è il mio se vuoi c'è un ventolino indietro cosa è successo potrebbe potrebbe capire chi è questa ragazza hai perso la tappa della valvola è la mia tippa è la mia tippa io sono neri single no 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 io tutte le ragazze che sono qui sono tutte fidanzate con me però non lo direi in giro che magari poi mi ammazzano nuovo business è il pappone mi sveglio direttamente su una bar dentro una bar ha vestito bene lui ha fatto ha creato un nuovo business in città il gigolo magari se vuole se lo chiede una signora che passa prima che è passato lo chiede cosa? che senso la ragazza signorina c'è il tuo ragazzo qui è rimorchiato ma che c'è anche la rimozione ok solo dite voi comunque voi siete? io sono Icaro Icaro piacere cippa piacere mio Orazio come va? come va? lei? io sono Vale piacere vale in realtà non mi ricordo non mi ricordo mai una minchia ora si va bene vabbè andanzo anch'io mi ricordo e non mi preoccupa piacere io sono Gianni vabbè mi certo te ricordi la risata voi lo è sicuro piacere piacere sicuramente voi ricordatevi ecco dallo star basta che te ricordi il guercio il guercio? chi è il guercio? ah perché invece tanto è siccato il guercio Gianni Cino no scusate scusate capito che fa un pazzo di cicosite no però mi chiedevo come mai a pillolina a pillolina al signore a pillolina ma tu hai conosciuto il procuratore? non devo capire chi ha non vedrà ma è molto a puntuale voi grazie ma mago mago oh che cazzo vuoi? ma quell'altro non viene no non viene oggi chi è quell'altro? non si sveglia ma ok soprattutto ma Mirchia tu che sei tutto quanto ma perché è stato diciamo richiamato oltre la galera procuratore lei deve passare io no il nostro paulone non deve fumare sigaretta no no pure io a te sei stato il primo uno dei primi no insieme ah insieme che eri combinato scusa diciamo che ho sbroccato un po' il medico vabbè cerchiamo di stare attenti no no aspetta vabbè poi te lo dicono in separata va bene va bene sono stata arrestata a cazzo le cani ieri quindi eh capito dopo un'ora ho sbloccato del brutto ma il procuratore lo vedo tipo la vita sto così detto ma ma dormo si ma che cazzo che tempo fa faccivi loro che ne so io vorrei inumidi importito però qua non c'è niente eh vabbè che cazzo se vuoi inumidi il dito voi rimanchiate va bene a me o ci sta comunque sia ci sta quella la del belle view se vuoi uggilato e aerobica da camera la fa no ma ce ne stanno una cifra il belle view no quella che ci sta quella che ci ha fatta le foto di altra volta pixel non so la mattina si svea fai giustizie da solo in compagnia quella che ci hai fatto la foto dell'altra volta perché le fai foto pure con l'altro lo so ma le fai foto pure con l'altro però ah ma la sola in compagnia quindi comunque non so se a qualcuno può interessare ma Gabriella mi pare cerca lavoro ho letto un annuncio dimmi dimmi eh quello sarebbe interessato allora io voglio dire un'altra cosa ah ok un'altra cosa soprattutto eh sì andiamo in qua in qua ecco è peggio però no perché il problema sono più gli altri cioè più gli altri che parlano allora quello che volevo dire io ho probabilmente un ordine importante e mettersi in mostra insieme ai verdi e per il semplice fatto che secondo me sti verdi hanno un bel po' da fare e sto vedendo che stanno facendo parecchie volte scazzottate per un bel cazzo alla gente ok e abbiamo notato che c'è quello del tassi che ci si butta sempre in mezzo se ci avete fatto caso allora quello il tassinaro ieri ci hanno scarcerato insieme a me a paolo e a lui ok e abbiamo fatto un pezzo di strada insieme ok e ci ha detto che gli stanno veramente sul cazzo a può gli ammazza tutti ai verdi però li aiuta ai cazzotti no no che aiuta no ma è veramente i verdi che ci hanno atterrato un certo un certo lello e un certo mozzarella ok ho capito e perché è sta cosa perché fanno sempre così perché sono delle teste di cazzo bravo perché loro hanno puntosa la scusa che so gente di strada e fanno come cazzo io e ok quindi loro piano se te degli guardi male loro sono autorizzati a date una botta col tiravugne sta facendo scendere pallata aspetta un attimo vediamo un po' se la vuole togliere il secondo no 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 ho già provato questa no perché la metter dj adesso bonnie che vuole stare a bionda quella non vedo io qual è uscito adesso aspetta una nuova del bello a zio razza al culo dopo piazzo tanto messa cazzo comunque sia secondo me a sto punto dobbiamo teners buono secondo me sia i verdi sia sto taxi perché sto taxi sta sempre a mezzo a qualcosa è un taxi comunque è bravo è molto in formazione molto aggressivo a quanto pare oltre al fatto che questo porca musica di merda andiamo fuori potrebbe essere niente minuto vorrebbe almeno 6-0 almeno 6-0 ma scusa quanto lo vado mi sono appoggiato lui cerca di un posto migliore insomma momentaneamente 6-7 6-7 1 è qua fuori guarda quanto Hector se sei lì non ti si sente salve male educati questo di gemme fa morire comunque eh il di gemme fa morire che sta là che sta là perca si 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 no il vengo d'occhio io non ti sento cioè ti sento ma non ti vedo vado voglio sannata questo sbocato l'occhio che c'era bene e chi è che parla lo conosco dal primo giorno io parlo ah no che non ti vedevo più se non mi vedete eh so no all'occhio ci vede però visto che andole in silo dai graffi del poma non mi vedete no ma c'ho problemi io regalo ho problemi io stavolta e tutti gli altri mi vedo sì io ti vedo sì sì ma si vede sono problemi mia io mi spinghi è fantasma ma 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 mazza che uglia che c'è è una bella signora quella che la spinge ah beh mi faccio spingere alzo pure le mani guarda faccia di me quel che vuole anche se non la vedo ah oh ah ci stai perdendo mi sa che abbiamo trovato il puma davvero ma è puma vedi che è unica è già questa è questa è graffia dei manati tentare all'obbitorio dovrei fa puff secondo me quando qualcuno c'è sta pure il cimitero due passi ci sei arrivato ci sei arrivato ho che hanno provato a far puff ma non è cambiato niente ah l'ha niente no e qua è proprio è proprio che è pesante tutto penso che sono l'unico coglione che ci vede bene infatti porto gli occhiali al posto di merda questo è un'altra noi dobbiamo dare la botta ma guarda che veramente non gli ha dato niente perché prima lui l'ho sbloccato tirandogli un pugno aspetta glielo tiro io ahia basta 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 se no la gente si preoccupa si pensa chissà che ma questa scena tutto intorno comunque l'ho già vista ma io non la vedo no mi dissocio mi dissocio neanche Natta Natta lo sento non lo vedo ti ha fatto scappare ma io sono apposta a quel punto di vista ma chi era ma chi era direttrice dell'Asgard ma direttrice dell'Asgard a moglie n'è squalo no 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 vabbè di quello però ok a moglie di quello minchia io vedo solo voi quattro quindi avvisate quando arriva gente io vedo solo chip io ti ho provato a fare una battuta simpatica però a quanto pare dove sei Hector? fate tirare un pugno dove sei? sto qua ragazzi 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 se volete farvi identificare mettetevi qualcosa in mano tipo un sigaro un whisky qualcosa almeno quello dovreste vederlo ok whisky c'è qui perfetto che cazzo di musica hanno messo ma che cazzo è il DJ rica rica lo sai che ci vorrebbe ma adesso andiamo a pull a fare il DJ una bella striscia di coca ria e rica no lo sai che risate tu c'è il brevetto di volo eh sì ma il brevetto anche per volare mi pare eh vuoli facile neanche me ce neanche me ce fanno arriva qua guarda sta già col paracaduto è capito abbiamo la contraria acqua di navi quindi l'unica che c'è c'era che ti degnava di parlarti don l'ho fatta scappare io perfetto ho mandato ho mandato un messaggio ad afro e vediamo se c'è un'inizio se deve succede qualcosa per casa andando me non ha senso ma scusami a belli mia a come ugo cazzo bello tutto bene voi via scarpa in scarpa avete avvestata romper cazzo pure voi è piacevole il posto amore di bell'io no no io sono che bell'io e lui dell'altro ragazzo quello sbarbato il signore sbarbato ma dove è cat non l'ho trovata oggi in officina buonasera chissà che probabilmente non c'è quando voglio amiche capito capito tutta a posto perché non vi voglio questo posto non ti affangino no no ma il posto è bello il posto è bello soltanto che tra la musichetta così che deve succedere che ne so c'è sta riunione sta bella tutta cosa magari che ne so no ma in senso magari c'è stava il governatore volati qualcosa che cazzo però ne so si 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 la rietta era solo quella era curioso tranquilla beva in giro una sciabola perché si si no ma è bello il posto è bello soltanto che è un po' di sigarello lo sento lo sento lo sento lo sento lo sento lo sento così quindi salvi ah corvo io la palestra l'attende mi sa mi sa mi sa mi sa peccato peccato io ho quasi finito se sabato e domenica va bene vedremo vedremo salve mi sa salve ma come mai in giro con una sciabola signore come in giro con una sciabola la faccio cazzo che mi dice tutto a posto si difende con gli orsi io si sono stato assunto all'import ragazzo st ottimo si cercavo lavoro ho trovato lì quindi probabilmente adesso ti vediamo più spesso probabilmente non è detto ho detto quando riesca a essere libero molto volentieri hanno accettato i miei orari insomma quindi ottimo un bel posto di import io ho ispirato fiducia quindi diciamo che sono contento bello bello lì però che è bello eh si so curioso so curioso poi tutti i carichi che ci sono per tutti i locali della città eh muo vediamo non ho parlato tanto dei soldi capito l'importante è che riusciva ad accettare diciamo le mie esigenze personali capito certo certo poi quello che darà darà non c'ho capito niente ne ho chiesto niente ma chi è sta signorina buonasera 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 ti ho posto ti presento la mia accompagnatrice buonasera 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 affrodite oliver buonasera e zio andiamocene da qua lei invece è a secco oliver in che senso è rimasta a piedi una accompagnatrice no e che mi si fila a me no beh non è un brutto ragazzo mi scusi no non mi si deve così sminuire no io non mi sminuisco un po' si sono come vale è tutto a posto vabbè sono veramente entusiasta ho fatto dei nuovi investimenti dove investimenti quando gli ultimi tempi sto diciamo che ando di rampita complimenti grazie grazie sfruttando le varie risorse si può fare tutto smesso c'è uno spazio per passaggio ma no tu lo va buonasera ora posso dire una cosa Oliver? una gran panterona come sono che bella festa è come se ne avessi tagli salve ragazzi io perdonatemi la maggior parte delle persone non li riconosco ma perché lei è davvero bella grazie ci sono un po' di problemini un po' di problemini posso avere il suo numero? ma ah Olivia ciao forse sono un po' diretto si lo so ho una curiosità voi siete la signorina di ieri anche io ma è sedia oh vettore allora è andata a facciare il bicchiere ma come no? è piscia così? ah salve no eh si si un po' di problemini negli occhi si 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 purtroppo me li devo far vedere da Dario mi sa che ci faccio un binacolo come? so saputo che c'è un avvocato qui sarebbe interessato a cosa si è anch'io sarebbe interessato eh si si qua devo fare una sorta di lavoro coadiuato con i dottori un parrofaccio un miracolo signorina signorina una terra di mezzo tra misticismo e scienza certo scusatemi signori vado a riposare subito ce la ruba così ce la gattina di cose non l'ho visto arrivata non l'ho visto niente ah che gatti non l'ho mai che puoi fare no no è tutto naturale devi lasciarli anche andare a volte no? ah si 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 bisogna lasciarli anche andare fare nuove esperienze esatto se no se troppo insisti poi le perdi per sempre guarda il punto ah si hai detto saggio parole eh lo so lo so come sta andando la sera? appena fatto appena fatto signorina si? ti presento L'Ulidia sono cazzi tua che c'è le vale? signori sono cazzi tua tutto bene tutto bene come va? è bene sto facendo un oggetto sto cercando di conoscere più gente possibile giusto mi presento allora sto facendo anche no un po' anch'io in qualche modo esatto io lavoro al Pellevio oh tipo ma io che andrei stupendo cazzo scusa no 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 ho conosciuto solo Lola ah ok 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 posso dire che c'è una voce che mi mette un po' paura non so perché chi? paura? una la signora con i capelli rossi perché? la voce che mi mette paura aspetta la vuoi sentire bene non lo so vabbè ci sta degustibus come si dice eh beh sì quella anche va la sto giudicando vediamo un po' aspettiamo un po' ma anche i figuri per me potete giudicare quanto volete ma no perché ma più che attravo di si dà capito se lui ha paura vuole sentire bene la voce ah sì sì va bene lei è? io sono cipo piacere eh ma molto piacere Olivia Olivia a vice governatrice ah bene ecco ecco perché facciava paura capito? hai capito sia è lungo io eh ah sì non ci si può fare a lunghe ciutava al perico eh mamma mia vabbè ha piaccato bene allora dai mamma eh c'è un occhio sono sviluppato un occhio di vetro è sicuramente più di nel signore con la benda ma no io mi sa Raga Sfatiamo Sfatiamo Oddio Sto Mangiando C'è una Madosca e Sfatiamo Questo Mito Eccola Qua Io L'Occhio Ce L'ho E Sto Bene Però Vedete Che C'ho un Graffio Non è Di Veto Non è Di Vedo Ragazzi Solo Di Graffi Rimettiti La Benda Che Meglio Ok Ok Subito Si Per Tutti I Mari Ma No No Era Per Non Affatichare Troppo L'Occhio Voi Non Lo Sapete Ma C'ha Anche Una Gamba Di Meno Hai Visto Secondo Me E' Grande Sì E' Una L'Uncino Almeno Eh Vabbè Me L'Allontano Bella In realtà Se Sto Scendendo Qui Dietro No Lui Dice Texas Perché Però Non C'è Niente Pausa Puoi Sentire Musichetta Questa Mi Piace No Dexano Mostra Il Documento Al Procuratore Questa Mi Piace Raga Che Fate Io Dipendente Come Scusate Io Dipendente In Porta Appena Fatto Appena Fresco Fresco Devo Ancora Iniziare Il Turno Ovviamente C'era La Festa Ho Detto Ho Approfittato Allora Detto Comunque Siar Era No Era Per Quella Quella Questa Non Per Bello Direzione No Per Carina No Pensare Che Sera Capito Tutto L'Auto Scusa, vuoi ingannare altri signori? Io faccio le strade. Io, Marcus Goldman, fondatore della banca. Io lavoro al concessionario. Come si chiama la banca? Ah, bene. Icaro, molto buono. Io costruisco i palazzi e tappo le buche alle strade. Nathan, però pure il direttore della banca si chiama Marcus Goldman. Facano pure il bene. Sì? Sì, sì. Sì, però non so chi è. Non so qual è. Se vuoi venire, come no. Si avvicinò la fontana biondo. Sì, 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 dove c'è? Foto, nome e cognome. Ok, allora. Provo a mettermi lontano a fare una foto con lo tu. Tante filiari. Qua in città solo una. Diciamo, per valuta, una. Sondare il terreno per vedere che si vede. Sì, va bene. Come si ho perso? Mi piaceva, signore. Mi aveva quasi dato del delinquente. Però si è salvato. Addirittura. Scusate. No, dai, bravo. Se mi state parlando. Come non ci senti? Eh. Perché? Perché a volte sento più gli altri che quelli vicini. Eh, mazzano. Eh, lo so. Quindi... No, stava dicendo che gli stai dando del delinquente. Ma no. Quasi, ho detto quasi dato del delinquente. È salvato il calciotato. Il lavoro dignitoso, il lavoro dignitoso. Ah, che fai? Che lavoro fai? Che in modo greggio, sì. Come che lavoro fai? Cioè, lo sai, volta C2. Non ho detto che te tappo e buche extra. Ah, ma è vero, no, me l'ho dimenticato. Non l'ho dimenticato. Comunque, se sto dicendo, è passata la musica che fa pure il cielo. Grazie. Grazie, assolite comunque. E poi verranno battute. Come scusi? Quindi ci sono le aste pubbliche su cui verranno tutti questi apprezzamenti e anche proprietari. Mi dica, per cosa? Mi dica, per cosa? Eh, lei lo sa. Scusi un attimo. Eh, lei lo sa. Scusi un attimo. Per accedere... Sì, per l'invito di questa sera? Eh, certo. Anche per... Basta aprire un conto curante. Ovviamente ci sono delle commissioni, delle spese fisse da pagare. Dove si trova la segna? Comunque un pochino meglio. Non poteva, eh. Ma se apre su... Beh, guarda, guarda. Ma andiamo un po' di più. Dobbiamo rifinire ancora delle insegne, però ci dovremmo essere, insomma. La bigliale è quasi pronta. Ah, Goldman Bank. Sì, ma comunque, a quanto pare, operatore, pubblico, comunque sia come personaggio, a quanto pare. Ma guarda, la città è piccolina, l'agente è scoperta. Ma io poi... Se abbiamo fatto il nome, va bene. Ah, questo è stabilito proprio qua. Esatto, perché mi interessa al territorio. No, mi interessa al territorio. Esatto. Poi se il volume di... Si controlla un attimo se quello che ho messo. Avere delle persone di fiducia dentro, perché... Quello che palle alla fontana. E al momento non ho il subito. Ma tutto ciò, raga, Mirko sta ovunque. Sì. Eh, questo non lo spiegherò. Mirko sta sempre ovunque. Anna, 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 sono separate domande perché hai messo ogni discusco. No, 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 no. Cioè, no, 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 no. Lo adoro. Lo adoro. Ma è buonissima quella cosa. Ma sì, è buonissima, sì, lo adoro, infatti. Si vede quando fa il direttore di volo. Direttore di volo? Ma sì. Ovviamente quei soldi poi... È lui che dirige i voli. Ah, bene. Ma è ancora cresciuto tutto il senso. Però è meglio che questo lavoro lo lasciamo da parte, eh. Te lo chiuso quel pittaccio. Se vogliamo fare gli imprenditori possiamo anche pensare a una ditta... O meglio una... No, ma che jet prima? Sì, sì, è bravo, esatto. Una compagnia aerea. Di musso. Allora, adesso la cifra... La schianto Airlines. Mirko Airlines. Sì, sì, che direttore. Talve. Ma no, la... Ti immagini la Paolo Airlines con Paolo che ti parla mentre... No, vieni all'aria, porco. Stiamo a partire. Ragazzi, qua è il vostro capitano che vi parla. Poi che casca il caffè, ma porco, si casca il caffè. Quindi non ci può mandare o il 20% di... Incredibile. Paolo lo vorrei fare tutto. Sì, sì, ci stai, sì, sì. Tranne che a parlare con certe persone, non è vero. Io pure di parlare con certe persone, non vorrei parire. E' interessante, sì. Ma perché parli con me? Perché tu... Dai. Comunque, raga, potrebbe essere interessante, sì. Manca da sapere, secondo me. Questo con i capelli... Eccolo, stanno a prendere tutto il numero di Golban. Hector. Eeeh, no, questo di spalle... Alle spalle mi con il ciarciuffo, vedi? Buona fortuna, se vai tu... Ah, guai, troppo? Ok, dici? Oh, non lo so, però... Io non so come attacca a bottone questa gente. Quello lì dietro, secondo me, c'è quello con i capelli viola... Che lavora in... All'armeria. La signorina, dici? No, dietro di te. C'è uno con i capelli viola. Eh, non lo vedo, c'è uno... Ti vedo blu, li vedo. No, il carombo mi è arrivato a me. C'è anche uno con i capelli blu, ma c'è anche uno in blu. Ma lei che è quello che ci provava con la tua tipa? Eh, dove l'hai ce l'ho fatto? Ma chi? Come chi? Sì, se non mi è, si è presentato come accompagnato da quella ragazza che è Afrodite. No, ma lei sa che è, lei sa che è... Eh, non lo so. Eh, non lo so. Fa' fa' così. Va, entra nel... Però se quant'avano essere due, l'ho accompagnato da una ragazza. Ho pure provato ad approcciare con Afrodite. Ho nato un due di picche. Ciao, piccolina. Quindi adesso ho... Come ti chiami? Aurora, che bel nome, Aurora. Cosa? A me? Mi hai sognato? Vediamo un po'. Allora mi chiamo Cippe io. Lui era cattivo, scommetto. Lui era cattivo. Però un annuncio quando sarò in banca e ad ogni modo ci sentiamo, ci parliamo in modo un po' più approfondito. Dal sogno, da lui. Come da me? Anche perché il bello di queste feste è che ci... Io non sento niente comunque, ragazzi. Non mi pare che sta... Non ho capito niente con la musica, te giuro? Non tengo più una lira. Non tengo più una lira. Sono un barbone. Devo modificare le auto per guadagnarmi da vivere. Sono un barbone. Non tengo più una lira. Buono, buono. Questa è una cosa che è da fare con una bambina. Non fatti si chiama. Ma che la rimposte. Mi sono in città. Ma si sente lo stesso la musica, raga. Non lavoravo per farmi soldi. Prima scroccavo, rubavo. Ma quindi non è vero il mio sogno, allora. Il tuo sogno è verissimo. Ma c'era un altro signore con voi. Era battito i tre moschettieri. Sì, sì, sì. L'altro moschettiere mi sa che... È là, parla con un signore l'altro. E tu se non mi sveglio tu ti chiami Cip, vero? Sì, sì. Eh beh, te l'ho detto poco fa. E lui si chiama Don. Don, brava. E l'altro non mi ricordo. E' il tuo sogno per tesoro. Chi l'altro? Mi chiamava Emilio, vero? Nel mio sogno. Hector, Hector, Hector. Hector? Sì, sì, sì. Ah, sì, Hector, è probabile, sì. Ma nel tuo sogno io ero l'uomo più ricco del mondo, vero? Sì, ero il direttore della banda. Sì, sì, vero, vero. E io chi ero? Eri, eri anche tu direttore, però ero il mio sogno. No, lui era... Brava. La bambina. L'ho sognato bene. Una delle poche. Ci sta, ci sta. Guarda che c'è, un'altra bambina. Un'altra bambina. Madonna mia. Signorina, se vuoi togliere il ciuccio? Magari la voce la sentiamo meglio. E non posso togliere il ciuccio. Ah, ho capito. Allora, proprio così. Se no rovino il completo. Ho capito. Ho capito. Vedi che è tutto... Tutto abbinato. È disapresentata l'altra bimba. Ma che è il tuo papà e la tua mamma? I direttori dell'Asgard. Come? Nell'esco? I direttori dell'Asgard. Della Asgard. Ho capito, ho capito. Ho capito, ho capito, ho capito. Ah, i direttori dell'Asgard. Non si fanno. Ah, quindi lo ho lasciato qua. E che se... Ma, sono fatti di... E come quando lo dici? Lascio a... Sono fai loro. Sono i miei ziii loro. Quando dici vai a prendere il latte. Esatto, esatto. Ho capito. Bene, bene, bene. Senti, diamo da colpa cosa da mangiare da bere, piccolina? No, ancora no. Ah, ok. Adesso... Vediamo se c'ho qualcosa io. Aspetta, vediamo se c'ho qualcosa io. Ecco, bravi. Vedete se c'è qualcosa, signori? Allora, allora. I soldini ce ne hai, però? Soldini? Ma come soldini? Dai, la paghetta già te l'ho data. Dai, ti ho fatto regalino. Tutto non avrei rapporto. Andare alle giostre che quelli si rapportano alle giostre. Io non c'ho da bere qualcosa da adeguato per una bambina, ragazzi. Da bere. Avete qualcosa da dargli? Se voi lo sfumate... No, non era adatto neanche il caffè. Sì, vieni, così fai il giretto alle giostre. Al disco Dexter, se no, dovevo arrivare. Quante paghette, ora? Hai visto, sì? Tutti i ziti siamo diventati, hai visto? Aspetta, non trezano le paghette. E infatti, a me i paghette? Ah, eccola qua. Eccola me l'ha tormentata. Vieni, facciamo una piccola paghetta pure alla bambina. Sì. Grazie. Grazie. Prego. Tanto lo zio si beve un bel spumante. Ma ci sono altri signori con i soldi qua? Per le paghette? No. Eh, secondo me, se fa il giro prendi tanti soldini. Ma mi sa se questa cosa si è tuo, quindi è l'eccissimo, eh? No. È molto pespicace sta ragazza, deve stare molto attento, signore. Hanno detto una cavolata, non è niente. Eh, la bimba sente bene, eh? Ho capito Più di questo non ti posso dare 5 milioni È stato generoso La gole la possiamo nombrare È stato più generoso È mai capito perché io sono il copo Oddio Vieni che tanto i soldi me li danno i tuoi genitori Ma come tu? Cos'è che ne scrivi con i soldi cara Ma sempre sempre con i soldi Arrivo subito Vieni vieni Ti porto io da 100 soldi Vieni andiamo Cerca il signor Marcos Quello è pieno di soldi Seguimi Seguimi l'ha pisciato subito Complimenti perché Seguimi seguimi Avete fatto Avolo portata coso? Da Goleman Da Orazio Da Orazio No era Orazio era il migliore Da Mimmo Da Mimmo No no Orazio Buonici soldi Ah no ma che c'è se No hai capito Io dico via con me che ti faccio Sfanzare i soldi e poi steccavo Io pensavo Vieni con me che ti metto in un sacchetto Ti butto in un bidone Alla scattatura Alla 500 euro io ho volato 500 dollari 200 Sono quel coltello Non è che sei tanto rassicurante Per delle bambine Ah vabbè E faccio un giocattolo Un giocattolo Fagli un giocattolo Ma dove è andato il Do Ah sta arrivando A provarti con Una metà locale Io non vedo Non vedo neanche Nato Io non vedo te Ma che ho capito Porca troia Porco sì Io non la vedo Ma non la vedo comunque Porca troia Mannaggia la miseria Mannaggia la matosca Eh ci perché stanno Certe strappone Eh sto come Infatti io pensavo Che se ne è andata Un sacco di gente Invece ce sta No Ma ce stanno io per te Comunque me sta chiede Tutti con le scarpe Sul campo da golf Quanto cazzo gli costa Resistema Allora sono i soldi questi Ma se Ma se Ma gioca Uh Vabbò Cosa è Ah Piamo i macchini Oh piamo i macchinette Sì Ci sbattono fuori Ce le prendiamo Perché Gara con i golf cart No la gara No però facciamo un giro Magari Vedendo la gente Tiro sotto qualcuno Di sicuro Ah è vero Quella è un bel rischio Che avrei sicuramente Anche io Sì Eh però Il rischio ci attrae Giusto Mirko Eh Non sa rispondere No sto tentato Se prende questa Questa o quella Ce n'è una laggiù Capito Io ne vedo pure Una laggiù Un po' Desilata Lo vedo pure io Io ne vedo pure Ti la vedi chip O sei cieco pure dall'altro occhio Non la vedo Dove In fondo se ne sono un pari Sì beh io ne vedo Se ne vedo qua due Una in fondo Come in fondo Ci sono due Ci sono due Io mi fai vedere la seconda Non l'avete Pronti coglioni Esatto C'è sto posto a far cagare Porti Dio No Iniziamo Arriviamo la festa Dai No Perché stavano Lo sai che te vanno fa qua C'è cavolo che non ritorni più Comunque Mirko Tu l'hai preso il numero di Marcos Senti ma che era avvocato quello che sta laggiù fermo Quello con giubbotto blu Con la giacchetta blu Ma che è un avvocato No è tipo la statua del golf club No è un avvocato Mirko va ovunque Parerebbe anche con il carto tra un po' Siamo avvicinati alla musica però Siamo avvicinati alla musica è un casino Salve Salve Presidente Presidente Mazzà Mazzà Guarda cocchi allucinati Questo si è calato Chissà che I fungatti del blazing Sì sì Guarda cocchi allucinato che c'ha Presidente Eh niente Presidente Vabbè Ha fatto Presidente Ha fatto Presidente Mi sembrava un po' Beppe Marotta E ci è rimasto Ma hai visto che occhi allucinati che c'ha La voglia Allora signora In un processo quello ti fa andare nella merda Guarda quest'altro che si fa un cannone Non so voi ma io mi sento osservato dietro le spalle ragazzi Ho proprio questo senso Sento osservato perché non me li incazza vero Tutti divisi in gruppetti Ma io non vedo più Mimmo Orazio Oh è vero Secondo me sono dentro Dici Eh boh se non sono qui Oh grazie Ma è passata te Mi hai due Oh Mirko Piano che Ah ma questa mi ha corti vita in casa Ah senti che robetta ora Senti che fiata Senti che robetta Meglio di Amsterdam Yeah Tra un po' trovavo Mimmo in piscina E Mimmo Mirko in piscina Oddio vedi adesso c'è i funghetti De... Oh si è mosso il pezzo del merda Come si è mosso il pezzo del merda Ha fatto... Eccolo là Eccolo là Oh eccolo là Stai a posto? Fiata e Santa Tutto bene grazie Sì stai a posto As secale ragazzi qua state aumentando in frattempo Scusate non vedo altra gente Scusate Tranquillo tranquillo Ma quanti pimpi? Quanti pimpi? Lei ha avuto ora ragazzi Vuole un po' di soldi per le caramelle ragazzi Abbiamo dato un po' tutti quanti Una piccola offerta per l'aurora Io ho solo questo tesoro Non ho altro Non la voli? Non la volate? Amore mio io ho solamente questi Non ho altro Te lo posso assicurare Ho solo questo Amore Troppo carina Mi ringrazio Mi farò sapere in questi giorni Perché sono un meccanico io Lavoro al Venice Non è la tua fidanzata? Sì sì la mia ragazza E lei che fa fa? Io lavoro al Bellevue Io lavoro al Bellevue Ah 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 T'è la figlia di direttori dell'Asgard Ah sì? Ah Dove sono i tuoi genitori? Eh mio papà sta arrivando Sono comisita Carino Sei proprio bella Sì? È bello È sodo È sodo Intatto È lindo Forse qualche merito ce l'ho anche Marco Ok arrivo Vai Mi sa che c'è dato C'è nessuno dentro? No no Secondo me Mimmo no Sta qua Orazio E non c'è sta qua Vediamo un po' dove sta Vuoi programmare Vedere se sono di sopra? Anche pure Afrodite Afrodite sta qua fuori Con Goldman Con il governatore Sotto le scale Prova oggi con la dottoressa Dai No 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 Già ho avuto Prima esperienza Niente Mimmo non risponde Ma ti è attaccato Non l'ho parlato con Ma scusa Vedo quindi La serata di stasera Si 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 riduce a questo? Cosa? La serata di stasera Si 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 Sta tutta L'evolazione è qua Il discorso della serata di stasera Era Molto Semplice Qua È stato creato Un movimento Secondo me Il movimento nel senso Che talmente tanta gente Qui stasera Che se tu sei stato attento A determinate persone Giravano tra i gruppetti Informarsi chi era Chi non era Che Che cosa faceva in città Si Si l'ho notato Quindi ci sono persone Come stiamo facendo noi Ma la differenza è che noi Tecnicamente non contiamo Un cazzo Invece ci sono le persone Che contano Che si stanno informando Su chi fa E chi Si muove Quindi noi Non so se siamo stati Più astuti Che stiamo facendo Come loro E quindi noi abbiamo Detto un cazzo Con lo stesso momento Stupidi Perché volevamo Inventarci qualcosa Di utile Per avere dei contatti Per avere dei contatti Però Vedremo Vedremo più avanti Ma intanto Io direi Con tutta sta gente qua Cazzo Ti dirà fuori Uno dei business nostri Cazzo no? Non dici Ma le scommesse Possiamo uscire Basta Dove è Hector? Eh quello Dove è Hector? Chi è legale Dobbiamo ancora parlare Con i miei direttori Hector uno va in giro E dice Senti io Lavoro Lavoro Per un'agenzia Di scommesse Calcisti Che stiamo facendo Scommesse E amen Ce la possiamo fare benissimo Anzi diamo all'occhio adesso Dovremmo sfruttarlo Ma qua c'è procuratore Governatore E ora che sappiamo Ah giusto Magari se c'è Sa qualche poliziotto In borghese Perché adesso che sappiamo Chi so le persone Cavolo Le evitiamo e via Ma comunque penso Che all'interno Dei gruppi Qui in mezzo Penso Non ci siano poliziotti No No perché non sento Anche la voce Di quelli In testa Di cazzo Per Progrune Perchè altro Vedo che adesso No proviamo Andiamo Le poche persone Sono rimaste Sono divise in gruppetti Quindi Si Si può proprio andare Di mezzo Di Io quasi Si va Vado a lavorare Il mio direttore È ancora qua No Non so che è tornato Lavoro Salve 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 Che dovevo fare Signori È stato un piacere Buona serata Buona serata Ma scusa Ciao al governatore Dai Eh Sirio Che dice Ciao al governatore Arrivederci Che cazzo Me ne frega Ho preso confidenza Da subito Sti cazzi Ciao bello Ciao Ma tu con quel baffo Dove vai Sto afrodite Sto parlando con Goldman Do sto afrodite Sto parlando con Goldman Ma quale afrodite Quei le capelli blu Alla tua sinistra Sono io Sono io piacere La mia destra Sinistra 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 Quelli blu Con il biondo La prima coppia Che vedi tanto Il capello Arrivo Io devo andare Ragazzi Quel pezzo Di fregni afrodite Ovvero la sua ragazza Si Vabbè ma lui lo sa Che la chiamo così Poi dopo Non chiederti Anche perché non potrai Perché ti troverai Dentro un mogano Perpendicolare al terreno Con la cravatta Almeno io te lo dico davanti Si 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 ma infatti Ci sta Bobo io me sa che vado a lavorare Mi ricordo di sempre di avere una cravatta pronta Gravatta col direttore Che mi ha chiamato Il controllo ma la cravatta colombiana Già c'ha Vabbè Vabbè Se la andiamo Che tempo fa? Si Innamo se ne Amo Ormai ci sono Spicato In gruppe impossibile Passiamo in una TM Dopo l'esordio Ehm Vabbè Andiamo Andiamo Dai Facciamo sta cosa Su qui Ho sentito il botto Ma che sbattuto Hai tirato alla porta Eh ho sentito un botto assurdo Io pensavo Era appena che Stavo a seguire Ce l'hai la macchina Ce l'hai la macchina Si si La più bella del parcheggio Io dovevo andare Dimmi Si si Ciao grazie Lore Parco puttana Perché Grazie 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 Grazie